Con Jacopo Scotti, istruttore di Breakdance, che in collaborazione con Andrea Trionfi della AAA Fitness Eventi, voi vi occuperete della parte aerobica fitness della giornata che si occuperà del mondialito? Sì, allora quindi dicevamo che la AA Fitness Eventi, in collaborazione con la Zero Gravity, la California Fitness Club e la Fit for Fun, organizzano le lezioni durante la giornata, tonificazione, aerobica step, pilates e rebound, le lezioni vanno dalle 10 alle 18 e sono totalmente gratuite. All'interno della giornata ci sarà anche uno spazio con dei percorsi di parkour per poter provare anche questi sport un po' più estremi, per provare anche la breakdance e un po' di hip hop. Durante le lezioni, tra una lezione e l'altra, si alterneranno anche show di danza, di modern hip hop e breakdance. Tutte le lezioni sono con istruttori qualificati e quindi vi aspettiamo per questa giornata totalmente gratuita, piena di sorrisi, divertimento e passione, diciamo e sport. Ci racconti in breve quanto è difficile comunque stare dalla mattina presto fino alla sera tardi in compagnia di tantissime persone, però fare anche attività fisica fino a notte fonda, quanto può essere difficile sostenere una cosa del genere? Allora è difficile però se c'è la passione comunque è un'altra cosa, insomma la forza te la dà prima di tutto questa passione che ti spinge, in più poi se c'è risposta da parte della gente quindi c'è un'atmosfera, una bella atmosfera come quella che sarà all'area sport, all'area mundial, insomma ci se ce la fa, ce la facciamo.